Questo è stato uno spartito, mi è stato donato da l'ex presidente della parola della pace di Villafranca anni fa e dopo è andato un po' nel dimenticatore, sono messo negli archivi così, è stato rispolverato 3-4 mesi fa, un carissimo amico me l'ha un attimo riadattato per coro misto, essendo scritto questo per coro maschile a tre voci, e questa sera tentiamo di rieseguere in forma integrale. L'apprenditore particolare è divisi in quadri, abbiamo tempi intanzanti, abbiamo tempi in quattro quarti, abbiamo maestusi, abbiamo adagi, e tutto su un testo attualmente un po' diciamo non tanto adatto, perché allora quando era stato scritto questo brano qua, Villafranca era come un paese, il bezo che vorrebbe però che si attiva un po' al discorso della città, adesso è una città comunque, un testo che ha più di 100 anni, quindi c'è parte con un nino abbastanza sostenuto, quasi quasi come un incipito importante, passa un tempo danzante a metà, metà da danzare entra da 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 da, dopo c'è una parte d'incipito dove ritorna, prende il tempo iniziale sapendo i quarti grande e maestoso con le parti ma sono tanti campi di tempo diversi per cambiare tempo ogni quadretto ha un suo tempo e ma questo è più maestoso come molto più largo dove c'è una parte crescendo diciamo addirittura in crescendo sia vocale che anche armonico qua ritorna ancora la parte danzante è molto bella questa parte